Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Oggi un altro tutorial incredibile, faremo un libro per bambini, illustrato, ok? Possiamo farlo rientrare nella categoria libri low content, ho fatto anche un corso completo, c'è di tutto, iscriviti a questo canale se vuoi fare business online. Abbiamo visto Focus, questo tool che ci permette di fare delle immagini, di creare dei personaggi e mantenere lo stesso volto, lo stesso personaggio in più situazioni, cosa che era difficile con chargept o altri tool di intelligenza artificiale. Abbiamo visto video precedenti come creare un influencer, buttarci nel mondo porno, ma non solo, creare un influencer finta e guadagnare, vi ho spiegato anche i tre metodi per guadagnare, nel video precedente vi metto tutte le schede video, sia il tutorial per fare l'influencer, sia come guadagnare in modo, sia tramite la vendita di contenuti hot, ma anche tramite la creazione semplicemente di un influencer. Oggi vediamo come creare sempre con Focus un libro illustrato. Allora, partiamo dall'inizio, intanto iscriviti al canale perché anche oggi è un contenuto pazzesco, ragazzi, faremo un tutorial passo passo veramente semplice. Io dopo questo video voi saprete, mi consegno questo metodo per fare questi libri illustrati e potete poi farlo voi. Ovviamente vi invito in descrizione a guardare i link ai miei programmi percorsi, soprattutto quello su Amazon, perché io vi posso aiutare a mettere in piedi un business profittevole su Amazon e scriviamo i libri anche per voi, libri manuali che risolvono dei problemi nelle nicche più profittevoli, ho un team di ghostwriter professionisti, possiamo scrivere fino a 10 libri, andate su kdp.michelemaralino.com se volete essere seguiti dal mio team per lanciare un business profittevole su Amazon e la vendita dei libri. Ci sono tre videocorsi, c'è un Kindle publisher segreto che guadagna più di 10.000 euro con Amazon vendendo libri e manuali che ha fatto le lezioni e vi spiega tutto, c'è il mio metodo certificato per scrivere il libro in un'ora, pazzesco. Link in descrizione oppure andate su kdp.michelemaralino.com se volete fare sul serio, se no potete cimentarvi voi ovviamente ci mettete più tempo e se non ci sono i soldi c'è il tempo, se non c'è il tempo ci sono i soldi. Comunque partiamo a bamba, tutti i link sono in descrizione comunque anche degli altri miei percorsi formativi e anche la mia mail se mi volete scrivere facciamo una consulenza. Allora la prima cosa da fare come al solito è andare su google e scrivere kdp, scriviamolo, facciamolo, scriviamo kdp template ragazzi, eccolo qua, modelli di libro cartaceo. Quindi il primo link che vi esce cliccate, poi cliccate su scarica e ve li faccio vedere, il file è questo qui, poi lo estraete e ci sono l'archivio, ci sono tutte le lingue, estraete anche italiano come si estrae, molto semplice, tasto destro, estrai tutto e ti crea la cartella italiano. Allora io mi sono immaginato un bel libro magari quadrato sai di quelli illustrati, dobbiamo creare qualcosa di bello, di bello anche al tasto e alla vista, poi vedremo anche magari possiamo provare a fare una bella copertina, però sai quelli quadrati che si aprono molto belli con storia per bambini, quindi mi sono buttato su questo formato 20,96 x 12,5 x 24 cm, 8,25 x 6 pixel. Questo che se vado ad aprire è questo formato, avete presente? Facciamo un bel libro illustrato. Questo è il nostro template. Poi andiamo su focus ragazzi, ve lo ricordate? Focus con tre O. Adesso vi faccio vedere il processo, avete anche il tutorial nelle schede, però io prima gli ho detto creami la faccia di un bambino che sogna di voler fare l'astronauta, però prima di questo ho dimenticato il primo passaggio. Andiamo su CiaGPT e lì diciamo scrivi una storia per un libro illustrato per bambini con protagonista un bambino che sogna di diventare astronauta, ok? Possiamo fare così, oppure di un coniglietto, questo poi è la vostra fantasia. In base anche all'età, se il bambino da 0 ai 3 anni, dai 3 anni agli 8 anni, vedete voi 5 anni, 6 anni, però vi posso assicurare che è un bel mercato quello dei libri per bambini. Mia figlia impazzisce, ha la sua libreria piena di libri ogni sera, leggiamo di tutto e belli colorati quando sono più piccoli vi consiglierei questo. Se hanno delle belle immagini con qualche scritta, una piccola storia che il genitore la legge al bambino, siete a cavallo. C'è una grande richiesta di questi libri personalizzati su Amazon, ce ne sono tanti e potete crearli e poi caricarli. Vi metto in descrizione anche nelle schede il link al tutorial completo per poi pubblicare su Amazon. Lo facciamo tutto in questo video se non diventa troppo lungo, però c'è un corso completo da ebook, da 0 ai ebook di successo dove dura un'ora e io scrivo un manuale, in questo caso, lo pubblico, quindi lo impagino e lo pubblico su Amazon e ha generato, continua a generare delle vendite, pazzesco, poi ve le farò vedere, vi farò un video aggiornamento sui libri scritti con l'intelligenza artificiale in questo canale che portano ogni mese vendite e lì trovate tutto per poi fare effettivamente, dopo che avete creato il libro con il giusto template che avete impaginato, seguite quel video tutorial per poi pubblicarlo effettivamente su Amazon. Dovete fare il, vi dovete registrare su KDP, vi basta scrivere KDP Amazon, vi registrate e poi potete pubblicare i vostri libri. Seguite il tutorial perché c'è anche quello, ve lo metto in descrizione e anche nelle schede. Quindi questo lui, c'era una volta un bambino di nome Leo che aveva un sogno più grande del cielo, stellato, voleva diventare astronauta. Allora, io quindi poi su Focus sono andato e gli ho detto crea un bambino che sogna di fare l'astronauta e ci ha creato il personaggio. Dopodiché ho caricato l'immagine selezionando input image, cliccando poi su image prompt, poi face swap e poi gli ho detto crea un bambino e lui poi prende sempre lo stesso bambino, come vedete ha la stessa faccia, pazzesco. Crea un bambino che è... e gli ho scritto, ho preso questo verso, ogni notte prima di addormentarsi guardava fuori dalla finestra della sua camera fissando le stelle luccicanti immaginandosi di viaggiare tra esse. Quindi, io direi che nella prima pagina magari scriviamo il titolo Leo, però facciamocelo dire da CiaGPT, dai un titolo a questa storia, dai un titolo a questa storia. Lui ci darà il titolo. Ora, potete anche inventarvela voi la favola, Leo è il sogno delle stelle, ok? Quindi, prima pagina, poi considerate che questo è l'interno, poi farete praticamente, lo mettiamo al centro, ve l'ho bondato, farete praticamente la copertina e vi farò vedere come farla, 18 con praticamente Canva. Allora, qui vi sbizzarrete voi con la dimensione, facciamo 28, Leo è il sogno delle stelle, dopodiché andiamo. Io farei una pagina all'immagine, per rimanere semplice, è una pagina, il testo. Quindi, come prima immagine metterei il protagonista, quindi andrei qui, apri con Pint, eccolo qua, se avete Windows, seleziona tutto, C3LC oppure tasto destro copia, ritorniamo sul nostro template e facciamo in colla. Impaginiamolo. Vediamo un po' se lo ingrandiamo così, ci viene troppo, fai a nulla. Niente, non ce lo fa fare, se volessi. Beh, va bene. Leo è il sogno delle stelle. Ok, magari quando, dopo lo vediamo, quando diamo il prompt su focus, guardate qui su advanced, ci fa scegliere il formato e quindi andiamo a scegliere un formato tipo questo, 21-11, fate delle prove. Ok, io adesso per semplicità del video andrò ad allargare, però voi cercate di fare un lavoro impaginato bene. Dopodiché andiamo qui, io adesso vi voglio far vedere il processo passo passo. Andiamo qui e c'era una volta un bambino e lo scriviamo qui. Bello grande, magari qui che cosa abbiamo fatto? 28, quanti spazi? 1, 2, 3, 4, 5. Quindi dopo 5, 28, facciamo 28, lo facciamo bello grande, boldato così e magari lo mettiamo al cielo. C'era una volta un bambino di nome Leo che aveva un sogno più grande del cielo stellato, voleva diventare astronauta. Dopodiché andiamo avanti e che cosa andiamo a fare? Andiamo a mettere la seconda immagine che ho fatto con focus, che gli ho detto fai un bambino che prima di dormire guarda fuori dalla finestra e sogna le stelle, perché ho preso proprio il seleziona tutto, ho preso direttamente dal testo della storia. Facciamo seleziona tutto, no fai, che ho combinato annulla per favore, annulla tutto. Allora, seleziona tutto, tasto destro, copia, andiamo qui e incolliamo. Ora, peccato, cercate di... veramente non mi piace, però non va più su di così, è veramente impaginato. Va beh, va giusto per farvi capire, ok? Leo è il sogno delle stelle, la sua immagine, c'era una volta un bambino di nome Leo che aveva un sogno più grande, voleva diventare astronauta. immagine, forse dovremmo fare il contrario, prima il testo e poi l'immagine, va beh, questo è un tutorial giusto per farvi vedere come poi procedere passo passo poi. Ogni notte, prima di addormentarsi, copiate quest'immagine, qui, facciamo 28, 28, 28 volt, così. Ogni notte, prima di addormentarsi, magari io invertirei, metterei questo giù, qua, e il testo qua, così, dopo il testo, questo lo taglio, giusto per... questo lo metto qua giù, ok? E qui metto il testo. Magari qui mettete l'autore, mettetelo il nome dell'autore, magari inventato, Rita Belfort. Lei aveva il sogno delle stelle, c'era una volta un bambino, eh? E c'è l'immagine, guardate che bello. Ogni notte, prima di addormentarsi, guardava fuori dalla finestra, e questo lo mettiamo su, ok? Perché? Allora, prendiamo tutta l'immagine, la mettiamo qui, tac, allora io farei così. facciamo cance, ok, facciamo, poi andiamo su paint, facciamo copia, seleziona, prima se... annulla, scusatemi, eh? Seleziona tutto, copia, no. tasto destro, copia, andiamo qui, e incolliamo. Ok? Ecco fatto. Volendo, bellissimo, volendo, possiamo anche poi impaginare direttamente su Canva, adesso vi faccio vedere. Poi andiamo un giorno a scuola, l'insegnante annuncia una gita al museo spaziale, l'euro euforico, potreste prendere... qui potreste dire, crea a child, very, very happy, ok? Lui comunque si prende questo, cliccate generato, e andate avanti, no? Frase per frase andate a impaginare. Su Canva potreste, vedete, anche, diciamo, impaginare il libro. Forse sarebbe, forse è anche meglio utilizzare direttamente Canva, vi faccio vedere. Però, ovviamente, prendete le misure del tutorial, scusate, non del tutorial, del template di Amazon che avete scelto. Quindi, torniamo qui, è 20,96 x 15,24, andiamo su Canva, scriviamo create a design, poi su customer sites, mettete 20,96 x 15,24, create nuovo design, e il gioco è fatto. Qui possiamo duplicare tutte le pagine che vogliamo, e andiamo su upload, carichiamo le varie immagini, mettiamo il testo, qui possiamo aggiungere tutto il testo che vogliamo, e possiamo impaginare direttamente con Amazon, con Canva, scusate. Oppure qui possiamo fare, possiamo fare la copertina anche, solo con Canva, e magari utilizzare questo, anche perché poi vi consiglio di utilizzare il file, il template di Word, diciamo, di un software di scrittura che scaricate direttamente da lì, perché sarà questo che andrete a caricare. Poi, attraverso il Kindle create, lo, diciamo, convertite per la versione digitale, invece per la versione cartacea già ce l'avete. Per vedere come fare tutti i passaggi e pubblicare effettivamente il libro, vi lascio il link in descrizione del video tutorial completo. Cosa volete di più? Iscrivetevi al canale, questo bambino ora, praticamente, sarà sempre lo stesso e possiamo fargli creare diverse immagini, ora però questo non mi sembra più un racconto per bambini grandi, ok? Ovviamente, per la copertina potremmo utilizzare, da lì, ma io vi consiglio direttamente, magari, di utilizzare Focus. Come funziona Focus? Proviamo a farli adesso, che vi ho spiegato, come andare su CiaGPT, creare la storia, poi creare il personaggio, e poi prendere rigo per rigo e creare grazie a Focus. Adesso vi faccio vedere il suo funzionamento. Per chi non avesse visto i tutorial precedenti, vi basta scrivere Focus, con tre O, su Google, lanciarlo, quindi qua chiudiamo, esce, lo lanciamo di nuovo, vi si aprirà questa pagina, andate sotto fino a Collab, lo lanciate su Google Collab, così non utilizzate il vostro computer, ma lo aprite qui, scorrete in basso fino a Collab e cliccate su Open in Collab, e quindi lo aprirete sui server di Google, cliccate Play qui, esegui comunque, e lui praticamente vi installerà Focus, finché non vi arriverà un link, cliccate quel link e avrete la sua interfaccia. E a quel punto potete scrivere, crea un'immagine di un coniglietto che mangia i, non lo so, i suoi bambini, no, un coniglietto che mangia le uova di Pasqua, ok? Lui crea il coniglietto, poi voi scaricate l'immagine, e poi, ora come vi faccio vedere, potete bloccare l'immagine e dire, ora tutte le immagini che fai, fammele con il coniglietto che ha questa faccia, importantissimo. Quindi una volta che hai estratto tutto questo testo, voi dovete andare a prendere il link, questo qui, dove c'è questa sequenza di numeri e lettere, in punto gradio, punto live, cliccate e compare l'interfaccia del mitico Focus, ok? Qui adesso noi possiamo, cliccando su Advanced, mettere, diciamo, un po' di parametri sul numero di immagini che vogliamo, vedete qui sotto, ora sono, io ho impostato due, qualità, velocità, ok, smanettateci un po', e per il momento lasciamo così, e, che ne so, avete detto, o vi siete inventati una storia dove è protagonista un piccolo orso, allora, cre... small bear... very, very... 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 with... style pint. Vediamo che cosa esce, non so cosa ho scritto, ora lui creerà il nostro orsetto, giusto per farvi vedere come poi riuscire a utilizzare la stessa immagine, lo stesso protagonista, in tutte le altre, in tutte le altre situazioni della storia, che è questo che è quello che ci bloccava. Abbiamo il nostro, guardate quanto è cucciolotto il nostro orsetto, e con questo tool, che è gratuito, tra l'altro Focus, potete creare il personaggio che volete, come ho già detto negli altri video, in questo caso dipende tutto dal prompt, dai dettagli che date, da quanto... sì, dai comandi, più è dettagliato, più il lavoro sarà all'uniqualità, potete... bellissimo, potete dirgli praticamente lo stile, se lo volete... potete fare anche fumetti, così, quindi potete veramente creare qualsiasi cosa, tutto dipende dal prompt, più sono dettagliati e più ottenete delle immagini di qualità, già questo orso così è bellissimo. Io utilizzerei questo, ora che finisce, come diciamo protagonista per una storia di bambini, e eccolo qua, lui, a questo punto facciamo salva immagine con nome, lo mettiamo sul desktop, facciamo salva, e adesso avviene la magia. Qua chiudiamo. Ora io gli voglio dire, che ne so, la seconda... la storia di questo orsetto che perde il miele, o che va a cercare il miele, ok, che è nella foresta, allora noi che facciamo, andiamo su Input Image, poi andiamo su Image Prompt, clicchiamo su uno di questi riquadri, perché dobbiamo bloccare l'immagine, dargli questa immagine e dire adesso fammi tutti gli orsi così, quindi clicchiamo, andiamo qui, carichiamo l'immagine, poi andiamo su Advanced, ok, questo giusto per chi guarda tutorial su Focus per la prima volta, perché l'ho già fatto vedere nel video precedente, poi clicca su Face Swap, ok, a questo punto se tu gli dai un comando, crea a bear in the forest, ok, lui creerà un orso nella foresta, ma sarà lui, quello che gli abbiamo dato, e così possiamo sviluppare la nostra storia. Quindi, primo passo, creiamo una storia con Charlie Pt, non ce la inventiamo, poi andiamo su Amazon, scarichiamo il template, iniziamo a fare le immagini, utilizzando Focus possiamo mantenere lo stesso personaggio, proprio come vi ho fatto vedere in questo tutorial pazzesco. Fatemi sapere che cosa ne pensate, poi se volete metterci le mani, ok, Focus con tre O lo scrivete su Google e finite sul sito come vi ho fatto vedere, però per tutti i passaggi, se non l'avete mai fatto, di impaginazione e poi pubblicazione tramite KDP Amazon vi lascio in descrizione il tutorial completo per scrivere e pubblicare un libro. Quindi prendete il template come vi ho fatto vedere, impacchettate il libro dentro il file Word, dopodiché, link in descrizione, vedete il tutorial e lo pubblicate su Amazon. È in gioco è fatto, non c'è il limite alla vostra fantasia, il successo, poi le vendite, arriveranno dall'impegno che ci metterete, sia nella qualità delle immagini, sia nella cura della storia, sia della cura dei vari formati che potete creare, anche potreste creare dei libri a copertina rigida, anche belli come oggetti e vi potete sbizzarrire. Potete approfondire con il tutorial per poi pubblicare e vendere. Il successo dipenderà dalla cura dei dettagli. Mi raccomando, poi se volete essere seguiti da me nel lancio dei vostri primi 10 libri su Amazon, andate su kdp.michelemariello.com e acquistate uno dei miei pacchetti. Ci sono i videocorsi completi su come fare 10.000 euro al mese con la vendita di manuali su Amazon e c'è tutto quanto, sia la formazione ma anche il done for you. Facciamo i libri per voi e voi dovete soltanto pubblicarli e guadagnare. kdp.michelemariello.com Se volete entrare in Marrakesh Amazon Edition e farvi seguire da me e il mio team nel lancio del vostro business su Amazon, per tutto il resto fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e iscrivetevi al canale, commentate Miki sei veramente il numero uno. Me lo merito, se hai visto il video fin qui, fammi e ti è piaciuto, dimostrami, ricambia con un commento. Miki sei proprio il numero uno, perché ti sei abbeverato anche oggi alla mia fonte e devi restituire per equilibrare l'universo. Tutorial pazzesco, fatemi sapere nei commenti. commentate Miki sei il numero uno e vi aspetto nei commenti. Tutti i link sono in descrizione per approfondimenti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!